Buongiorno, benvenuti a Petra 2012, benvenuti, grazie. C'è bisogno di guardare al futuro, com'è nel DNA di Petra, e com'è nel DNA di molti nostri ospiti. Pensiamo all'italiano che sta inventando il futuro, alla Paitino, adesso Pricchia, dov'è? Per una cosa che siamo certissimi, e per le persone che tutti i giorni vivono adesso con una crisiabilità, sicuramente il futuro per loro sarà più nocile. Buongiorno, questa è la prima cosa che sta inventando il futuro, con una crisiabilità, sicuramente il futuro per loro. Buongiorno, benvenuti a Petra, e con una crisiabilità, sicuramente il futuro per loro. Buongiorno, benvenuti! Buongiorno, benvenuti! Wicksilizza c'è la città che si poteva il nostro canale che apprende risidine. Un razzolo di grattura. Un stracchio grande. Questo è il nostro canale. Questa è la radio. Questa è la radio di un po' di ampio, Grazie a tutti.